ehm... sbagliato l'intro ehm... sbagliato l'intro mi è stato solo lì e a tutti ragazzi, oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo vlog dopo tanto 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 tempo che non ne facevo uno, oggi ragazzi è il 25 marzo e oggi ragazzuoli andrò da Virgi a Bali quindi alle 12 e mezza c'ho l'aereo adesso sono le 10, c'ho ancora due ore di tempo scialla, scialla ragazzi posso fare un vlog così alla Gianni Muranni? ciao ciao Saru ciao Tarzan ragazzi sono una raccomandata e niente sono gnocca com'è bello l'aeroporto roma ma da regala l'ansia quando è piatto aereo siamo qua a camminare verso l'imbarco poi per chi ha visto The Ring può anche capirmi perché c'ho sto ansia tutti quelli che hanno visto i nuovi film di The Ring mi possono capire oltre che ho organizzato tutto porto le valigie devo fare anche il pacchino organizzatore ho una paura tremenda di volare lo faccio per voi ragazzi voglio centomila like sul mio canale che sta uscendo tra poco ci siamo e niente ragazzi ci siamo messi con uno pure a Bari certo vabbè raga siamo a Milano guarda che bella sono da Milano Milano è un ospedale poi poi raga acqua c'è sta ma ma che c'è di se metti questa parte di tutto poi raga qua c'è Nicki Minaj si esatto il canale è buonissimo non è bella stai sempre a vloggare mamma mia oggi dove siamo? siamo al bar siamo ragazzi in discoteca Virginia ragazza si era pure bevuto si si preliti d'acqua bevuto e ecco ma vedi i risultati qua qua ragazzi rubate il canale a Sivi e vedete il canale è rovinato eh grazie Virginia ti piace? ciao a tutti ragazzi vi ho visto il prossimo video si guarda sei in aia aia il collo quanti vogliono che Virginia vada all'ospedale oggi tutti? tutti perfetto quanti vogliono che lei sia trucidata da me? nessuno tutti non ho parlato niente hai sentito parlare? tutti hanno detto possiamo stoppare ci vediamo dopo vai stop un po' vedo come fare a stoppare come si stoppare? non lo sai vedi se mongola madonna santi perché la Virginia si è mangiata tutto eh si la mangiona guarda 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 ma stai guarda guarda che schifo beck spazio mi avviso si sta registrando no? no Guarda è bello il budino no ? è il budino in testa ragazzi è bellissimo guarda 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 no, aspetta ilір ragazzi probabilità alla pyrex dai Vabbè, la mia Virgi smette di fai placement pure nei miei video Ma stai sbagliando Poi dici perché Nadia li riprende Prondo? 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 Oh, pronto! Sta gente che chiama Bob Saluta Antonio Vabbè, salutando Niente No, niente, Virgi di là voleva dire una cosa Vai, Virgi, di là Che le noci di cocco sono belle, ciao Virgi guarda, sta passando la macchina, vai, è il momento tuo, vai Vai Guarda che bella che sono con la luce del sole, guarda Le borne Guarda Ho Tumblr Io sono famosa soltanto perché sa mica tu, hai che pensi? Raga, sono nella mia cameretta Tutta rosa, vedete l'ho ridipinta Sì, l'ho ridipinta Guarda che bello il rosa Il mio colore preferito, vero Virgi? Il tuo qual è? Il nero? Il mio è il nero Il nero? Si vede raga? Ed il nero, Virgine è tutto nero Nero e grigio Virgine Saluta al mondo Ciao mondo Una volta ti vedo in FaceTime, Bob non saluti mai Bob rispondi Ma guardate, Bob, Bob non ti paio, Virgine Però il tema è Corpa di Serena Serena, l'hai educato male Serena si bibì Vai Ci zummo la faccia Dai I brufoli Raga Vado ad ammirare la bellezza dei brufoli, Virgine Virgine, presenta i tuoi brufoli al mondo Guarda Maria Giangiangela Allora, qua sta Giovanni Vabbè, qua ha tante Giovannine qua Sì Vieni te Quante Giovanni Qui non c'è niente Whip Oddio basta Whip Ecco, li ho preso Raga, io mi chiedo Sto tartarughe come fanno a essere ancora vive Dopo quanti giorni so che ce l'hai Bob Vabbè Raga, sono ancora vive Cioè a me dopo tre giorni sono morte È l'esorcista Raga, Bob è... L'esorcista È l'esorcista Poi dici perché Bob sviena a vedere ste cose Aia Spiena Ciao Non volevo Ti Aia Giaglia Saluta Odi ragazzi, faccio più, sono tipo 40 minuti che sta a mare camion, Siracoli Vero, Giaglia? No, l'ho ricadito tanto io No Sì, anche lei Guardate sul profilo Mi chiamo Silvio02 Sul profilo Io Virgine e Giglio 04 Ecco, non la seguite, segnalatela Ciao Nero, saluta 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 Questo è il suo saluto, Virginia, Virginia, saluta Virginia, scendiamovi Ragazzi la Virginia è addestrata, senza guinzaglio scende Luigi fa la stessa espressione, bravo che sia una tipa strana Uguale, ecco la sua soluzione, si, 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 lo penso pure io, si Lo penso pure io, la signora mi piace, posso la bari, hai capito? Si, si L'ho fatto, vi posso, ve lo usco per fare qualche video Tu, non so, per scrivere a me Oddio, non mi avete accorta, ma ti ho vista Maria, buongiorno, salve Giovanni Come fa? Cibo Basta Oh, ma che faccio io, Luca, vlog, va bene? Si, però mi devi prendere mentre mangio Te zoomo pure Guarda, te zoomo pure Guarda, vedi? Guarda, vedi? Guarda Sono Tumblr, c'è la cozze Finalmente, io sono venuta a bari per le cozze e poi per Virgi Fila per Virgi e poi per le cozze Ragazzi, ho volete la droga Oddio Ho volete la droga A volete A volete A volete La droga nelle tasche Cosa ho detto? Ragazzi, provate la droga La droga Abbiamo la droga nelle tasche Subito A volete A volete A volete A volete A volete Se volete contattatisci al 3 0 0 0 6 6 6 5 Fine, ciao Ragazzi, capuccio Wey, telefono Wey Braccomandata Wey Tutto Wey Gang, gang, gang Mi raccomando Gang, gang, gang Triplo sette a vita Triplo otto Oh Virgi Che avevi detto? Scusa che non te lavi i piedi da otto giorni Non è vero Che sono tre giorni che non lavo i piedi Oh, Sabri 2 Oh, a Sabri Un bellissimo bagno, regà, con vasco idromassaggio Poi c'è questo letto E vabbè, mi cada Vabbè, c'è un altro letto Regà, questo qua Non potete capire Questo qua vola sto letto Un letto volante Poi la Virginia Ti stai sempre lamentando Ciao mamma Mamma saluta Ah, regà, buongiorno Mamma saluta Mamma sve... Dai, mi scher... Oh 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 Ho caduto tutto Guarda Guarda Ma è scherzo Virgì 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 E questa giornata si è conclusa in compagnia di un unicorno Ecco Balenoso Notte Ciao Non mi frega niente Virgì Brava ciao Didi Continua Iscriviti Gi好的